benvenuti in questo nuovo video tutorial nel quale vedremo un'operazione piuttosto tecnica cioè quella di impostare un redirect di posta cosa significa impostare il redirect di posta significa dire al nostro account g suite che alla ricezione di una qualunque mail deve girarla in un altro account magari il nostro account personale cioè dire quello che noi usiamo abitualmente per quale motivo facciamo questo video e introduciamo questo argomento facciamo questo video perché non tutti trovano agile e comodo avere nella propria gmail due account distinti e separati non per tutti cioè è comodo avere due ambienti completamente differenti qualcuno preferisce semplicemente avere una notifica dell'arrivo della posta nell'account professionale ma poi gestirlo in maniera autonoma da computer in questo caso dunque l'operazione di redirect di posta si rivela molto molto utile ora vedremo praticamente come si fa bastano infatti pochissimi passaggi ecco quello che state vedendo è il mio gmail vale a dire l'indirizzo professionale sul quale io voglio impostare il redirect allora per prima cosa vado nella icona dell'ingranaggio cioè sulle impostazioni e clicco impostazioni qui vedete che le impostazioni sono tantissime a noi interessa al momento il menu inoltre e pop imap quindi clicco qua su a quel punto è molto molto semplice io clicco su aggiungi un indirizzo di inoltre ecco qui chiaramente inserirò il mio indirizzo di inoltre quello cioè che uso abitualmente e poi cliccherò su avanti a questo punto verrà inviata istantaneamente una mail a quell'indirizzo noi non dovremmo fare altro che accettare quella mail cliccare nel link che ci viene dato e a quel punto il redirect è già attivo in quella mail troveremo anche un codice un codice numerico che opzionalmente potrà essere inserito qui ora il menu del codice qui non lo vedete perché io non ho attivato materialmente questa opzione però nella stragrande maggioranza dei casi basta semplicemente attivare quel tipo di indirizzo link che ci viene inviato nel nostro account principale a quel punto lasciamo tutto come sta e vale a dire conserviamo la posta anche in quest'account cioè non diciamo al sistema di trasferire i messaggi ma semplicemente di replicarli nel nostro indirizzo alla fine questo è molto importante dobbiamo cliccare su salva modifiche è uno dei pochissimi casi in cui l'ecosistema google rende disponibile l'opzione salva tutti voi sapete che il tasto salva non compare quasi mai nell'ecosistema google perché tutto è salvato in tempo reale questo avviene tranne che nei settings cioè tranne che nelle impostazioni in questo caso io cliccherò salva modifiche ora che succederà succederà che ogni mail ricevuta nell'account professionale verrà automaticamente reindirizzata nel nostro account principale in questa maniera nel telefono non non ho bisogno di tenere attivi due account gmail